Il tema che dovrò trattare nell'ambito del tavolo all'interno di questo importante convegno è legato al capitale naturale e quindi alla valorizzazione e la presa in considerazione da un punto di vista ecologico ed economico delle funzioni della natura. Quindi quelle funzioni che sono necessarie, indispensabili al benessere dell'uomo e che in alcuni casi possono essere anche valutate da un punto di vista economico senza perdere quelle che sono le capacità funzionali del sistema per mantenere le capacità di erogare servizi ecosistemici.